Credo che i personaggi siano contrapposti naturalmente per un fatto di regione, per un fatto di mentalità, di carattere. C'era un indirizzo politico un po' più spinto inizialmente. Io personalmente, per quello che riguarda il mio personaggio, ho cercato di far capire come la pensa senza usare delle parole troppo specifiche. Però poi viene fuori, insomma, quello del nord e quello del sud. Ovviamente sono al contrario, in genere c'è quello del sud che è un po' uno che si arrangia. Invece questo qua del nord è uno che si arrangia e si arrangiato anche molto bene, visto che ha avuto molti risultati. Potrebbe andare per l'elicottero, ma non ci va. Detto questo, il personaggio è divertente, ma la chiave è il rapporto fra i due. Il rapporto fra i due è determinante. Cioè, presi singolarmente potrebbero essere meno interessanti, però messi a contrasto diventano divertenti. Ma è Berlusconiano? Beh, lui sì, lui sì, credo di sì. Quindi, vista anche l'età, il periodo storico, evidentemente i soldi li ha fatti in quel periodo lì. Non si può. E quindi, di conseguenza, sarà stato ben contento di averlo frequentato quel periodo lì. Grazie. Grazie.